ciao a tutti oggi è sabato primo luglio 2023 siamo qui per vedere la seconda parte dell'impianto di irrigazione dopo aver visto le due pompe il quadro eccetera dove ho la serra vi faccio vedere un faccio vedere le valvo elettrovalvole la centralina i gocciolatori per darvi un po una panoramica 360 gradi e io oltre all'orto che l'onnaffi ultimamente con la gomma direttamente prima ho provato a mettere le ali gocciolante ma dopo ho visto che si fatica un po a gestirle invece con con la gomma magari uno ci mette un po più tempo però io gestisco meglio mentre per quanto riguarda i piccoli frutti more lamponi sia qui sia qui e tutte le piante da frutto che ho nella vigna e le altre piante da frutto che un po sparse ho messo il tuo il classico tubo questo qui il tubo questa quina la gocciolante che ho preso in discarica dove ho messo i gocciolatori adesso dov'è che sono questi qua vedete ma se no io utilizzo il classico tubo credo che sia diametro 16 in polietilene dove vado a fare i buchi e mettere i gocciolatori questi qua sono dei lamponi che ho trapiantato quest'anno sono fanno un po un po pietà perché li ho messi tra le more lì avete della consolida ibrida e poi in tutto il perimetro ci sono i gocciolatori eccetera adesso vi volevo far vedere un po la centralina allora che gestisce le retrovalvole che adesso vi faccio vedere nel dettaglio ci sono queste centraline qua io uso quella 9 volt ci sono anche a 24 volt quelle 24 vengono alimentate direttamente dalla rete hanno loro alimentatore queste qua invece funzionano con le classiche pila 9 volt hanno diverse modalità questa qui è della netta film che ha una sottomarca e le trovate uguali anche di altre marche e si può settare il tempo di irrigazione il giorno e le varie stazioni questa qua a quattro stazioni adesso vi faccio vedere tutti i collegamenti e anche questa qui è comoda perché anche a parte la possibilità di aprire ogni singola retrovalvo la mano e poi la modalità sequenza che è molto utile perché tu uno la via in base alle impostazioni che ha dato lui prende le impostazioni annaffia non so 10 minuti una stazione 20 minuti l'altro in base a quello che è stato impostato un po le impostazioni che sono state settate funziona 9 volt quindi non non ha bisogno di tirare dei cavi non ha bisogno di niente a quattro stazioni nel senso può poti può gestire fino a quattro retrovalvole ha anche il sensore di pioggia che non ho attaccato lo vivere il passo l'ho bypassato collegando insieme i fili ed è molto comoda perché anche dove non abbiamo corrente elettrica possiamo mettere queste qua e poi ho tutti i fili che vanno vanno in giro dove ci sono le varie le varie elettrovalvole adesso qui ho preparato sul tavolino un po tutto il dettaglio dell'impianto per farvi capire come funziona gli faccio solamente vedere i filari come sono impostati là ci sono elettrovalvole lì dietro il tavolino partono parte il primo il primo tubo poi sale su e poi ogni filare c'ha tot gocciolatore in base alle piante in base a ogni piante da frutta non messa una tipo ce n'è uno qua poi ce n'è una magari qui che ce n'è un'altra non l'ho messo sulle viti perché le viti bene o male si arrangiano e poi vedete un altro qua questi qua sono quelli più più grandi che si trovano dagli express nel senso sono da otto litri al minuto consiglio sempre di metterli sovra sovradimensionati perché magari si ostruiscono un po questi qua sono smontabili si possono pulire se vi faccio vedere il dettaglio e comunque dividete se avete un orto grande un frutteto lo dividete in tre o quattro zone ogni zona gli mettete la sua elettrovalvola la potete mettere a 9 volt come so io a 24 volt non so se ci sono anche a 12 eccetera e cambia il solenoide e da lì andate a gestire un po tutto io mi trovo bene allora qui vediamo il dettaglio questo è il solenoide è la bobina non è nient'altro che no nell'altro bobina che ha a questo stantuffo con una molla che quando viene alimentato sale o scende l'elettro calamita si attiva a due fili un positivo un negativo vedete rosso e nero che va alla centralina adesso questa qui lo ce l'avevo smontata per farvi vedere un po come funziona ha un senso vedete alla freccetta si può regolare come una valvola quindi posso regolare la pressione direttamente da questa valvolina qui il solenoide va applicato qua sopra adesso ve lo monto e vedete lui facendo pressione su questo foro qui in base alla pressione che fa se la fa o non la fa apro chiude la valvola passa o non passa acqua questo va avvitato qui adesso chiaramente cade tutto è crollato tutto adesso mi è caduto andiamo a prendere un po in pendenza allora questo va montato qui così poi va avvitato qui in questo modo adesso non so se riesco a vitarlo con una mano comunque va avvitato qua c'è il filetto lui ci avvita e viene avvitato così adesso non così perché non riesco a vitarlo bene con una mano comunque il suo filetto viene avvitato fino in fondo e va in battuta va in battuta il filetto e questo da questa ghiera si può aprire o chiudere la valvola quindi metterla in modalità automatica che viene alimentata che funziona in base a se sono le noide se la bobina attrae o no quello stantuffo altrimenti tutto aperto che passa l'acqua comunque questo qua gestisce due tubi da 32 entra un 32 su un 32 volendo si possono mettere degli adattatori che riducono il tubo a 16 e poi ci può mettere un rubetto io di solito metto il solito dai 32 metto un un 30 un tubo di 32 è un tre vie che a 32 32 il filetto da un pollice poi li mi riduco esco con un porta gomma a 16 poi metto un rubinettino come questo poi vi faccio vedere magari dettaglio lì e su con un rubinettino e vado e vado in giro per per il frutteto col tubo col tubo da 16 utilizzando questi raccordi qua questo qua è una curva questi qua sono quelli più economici vanno vanno applicati schiacciando il tubo così adesso qua è già sagomato ma è l'ideale avere un piccolo cannellino un piccolo saldatorino di quelli a gas uno scalda il tubo lo metti dentro nelle due parti questo qua un tre vie questo qua un tappo ma i tappi è meglio sempre prendere due tubi piegarli così mettere due fili due fili di ferro che così non si apre mai più e questo qua per il manicotto per ogni o due tubi poi abbiamo i gocciolatori adesso vi faccio vedere uno come si apre questo qua è il classico gocciolatore che possiamo andare aprire per pulirlo basta svitare dentro c'è una piccola gommino che è questo questo vedete questo va forato il tubo va forato con questo in questa maniera si fora il tubo questo entra si schiaccia e poi questa battuta qui fa in modo che non esca l'acqua e esce da qui questo gommino qui andando qua dentro limita la fuoriuscita dell'acqua che passa da questo forellino in base a dimensioni questo forellino è più o meno lì 3 minuto quando si sporca si riempie di terra diciamo di terra fine questa zona si smonta si pulisce e si rimonta quindi una volta ostruito si può pulire la comodità di questi è quella io mi trovo molto bene li utilizzo per questo perché con con poco si puliscono cioè ci vuole un attimo di tempo questo qua è tipo da 8 litri c'è scritto questo qua è da due questi qua sono quelli piccolini li ho montati e poi li ho smontati perché due litri sono veramente pochi è sempre fatto ha sempre la sua gommina anche questo con questo ha la sua scanalatura una volta applicato questo si avvita per smontarlo questo è fisso si svita si pulisce si rimonta io sono molto contento di questi mi trovo molto bene li trovate su aliexpress in grosse quantità a prezzi irrisori le valvoline ne trovate tante tipologie questi qua sono sono quelli della club così possono buoni sono validi perché vogliono vogliono buone le valvole altrimenti se c'è tanta pressione volano via e poi questi qua hanno questa ghiera che chiude è comoda nel montarle l'elettro valvole è quello che trovate basta che siano del voltaggio di cui avete la centralina però vedete questo qua va da 6 a 20 volt quindi si riesce a gestire bene e qua qua vedete il dettaglio adesso di un rubinettino che parte con la sua elettro valvola che poi va nell'orto per annaffiare e questo diciamo è un po come come ho impostato io l'impianto come come lo gestisco tutto in modalità semiautomatica una volta impostato l'orario potete impostare l'orario di partenza e di stacco della pompa anche per essere più più tranquilli e poi potete impostare dalla centralina la durata del tempo di irrigazione quanto irrigare anche i giorni è molto flessibile potete andare a fare anche due volte al giorno potete fare un po tutto quello che vuole sono quelli classici da giardino per intenti sono molto semplici da utilizzare flessibili io sono molto molto soddisfatto chiaramente vanno seguiti come tutte le cose uno ci dà un'occhiata io ho fatto dei bellissimi sensori che fanno un po ridere li faccio vedere ma perché perché io principalmente a luglio annaffio di notte no quindi ho preso uno scatolino dei fagioli l'ho messo sotto un gocciolatore questo qua si è sfondato ma in base così alla mattina passo vedo se pieno se pieno vuol dire che annaffiato perché delle volte si ha il dubbio che non abbia funzionato eccetera così uno di notte dalla mattina per andare alla voce da un'occhiata se sono pieni so che l'impianto annaffiato sono più tranquillo perché dopo l'acqua d'estate viene assorbita e non si vede più io sono sono molto soddisfatto di questo impianto infatti io ci tenevo a fare un video per farvi vedere un po come l'ho fatto così ne potete prendere spunto potete magari copiare quello che vi interessa se non vi piace niente è solo giusto per darvi un'infarinatura su come come fare un impianto per orti grandi per fruttetti grandi perché se no se avete tre metri quadri non ha senso l'unica cosa funziona chiaramente tutta luce c'è un consumo energetico chiaro che se uno al metro cubo molto più in alto riesce magari avere la pressione che gli serve e può gestire tutto solamente con con quelle trovalvole comunque valutate voi in base all'impianto che dovete fare poi se avete qualcosa da chiedere e scrivete pure o nel gruppo telegram o altrimenti commentate il video che se possiamo aiutarvi volentieri e seguirà quando tempo un video magari più teorico che vi faccio vedere magari il dettaglio dei vari componenti che ho preso un po su AliExpress in giro trovate anche roba che trovate anche usate trovate voler cercate su subito le trovate usate o sul marketplace di facebook è tutta roba che magari la gente cambia ci date una pulita e funziona io ho preso tutto usato anche le centraline le trovate le trovate facilmente nient'altro vi saluto vi ringrazio e se volete vedere la prima parte del video la trovate sempre sul canale cercate pure trovate tutto va bene grazie a tutti ciao e alla prossima ciao 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 ciao